Today it's the day of story. Now it's the time of story, of roleplay. Bandale cento e cento delle bande dell'italiano, ora della storia. Invece in inglese, now it's the time of story. Contiamo le parole. Now it's the time of story, è il momento della storia. Tre parole in mano. Noi siamo più veloci. Oppure direttamente con i gesti, però nel video non si può fare. Momento della storia, si può dire anche in tre parole. Vabbè, adesso vi lascio la storia. È uno sketch che ho fatto in un altro video. Sorellina, sai che abbiamo proprio uno zoo a casa? Eh sì, un po' è vero. Abbiamo il maialino. Non chiedermi perché ce l'abbiamo, sei un po' puzza. Cioè abbiamo il maialino, abbiamo l'acqua, cioè l'acqua, il pesce, abbiamo il cane. Hai saltato un animale? Davvero, abbiamo un altro animale. Mamma mia voce hanno comprato un altro animale. No, l'altro animale sei tu. Adesso mi hai fatto arrabbiare! Oh wow 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 wow! Che è successo? Mi ha detto che sono un animale! Punizione! Vabbè le macchine le metto come... Ma come? Forza! Non ti preoccupare di essere di mamma, noi ti difendiamo da quell'antipatia mortale. La sorveglieremo! Gli altri sembrano cambiati, ora posso ancora... Facciamo una foto con la mia Polaroid! Bella questa qua della città, me la tengo! La potrei appendere? Sì potrebbe essere, questa la butto. Ok, la poso questa. Ok, vado a buttarla. Ma non abbiamo una spazzatura in casa? Ti ricordo, la spazzatura e il gabinetto! Ah, vero. Dovremmo cambiare. Dlin, dlan! È arrivata la spazzatura! Mamma è arrivata la spazzatura! Ok, ora noi la... Ora la sistemo io! Ci vado subito! Che bello! Questa cameretta, tutta per me! Io mi siedo... Fatti i compiti! Oh mamma, avere i compiti, devo farmi! Posso la Polaroid. Vabbè, la Polaroid, la macchina fotografica. Dopo chiedermi se me possono appendere la fotina. Allora, lo posso qui, matitino in mano e in te. Ha fuori i compiti! Mmm... Che bello! Mmm... Bella! Che bella questa vaginetta! Perfetto! Perfetto! Ho finito! Mi faccio la zainetta! Mia sorella! Gliela dobbiamo comprare! Perché... E poi il... Ci deve andare pure lei a scuola! Perfetto!